ciao a tutti nel video di oggi vi facciamo vedere una forci max 1.5 kg sia in 120 cavalli modello titanium penso andrò mostrare nei dettagli la macchina è un aprile 2016 87 mila chilometri vi ricordo che il chilometraggio delle vetture che sono sempre certificato chiave con avviamento a bottone quattro vetri elettrici ovviamente interni anatomici e bag anche laterali anche nelle battute delle porte comunque ci sono allora macchina 187 mila chilometri mettiamo nel moto un secondo per poterla far vedere meglio chiudo la porta almeno mi sentite allora vettura dotata di navigatore con touchscreen modello sync ovviamente come dicevamo a bottone clima automatico bizzona cambio automatico cosa importantissima se non l'ho già detto lo dico se non lo ridico comunque la macchina è un euro 6 cosa molto importante allora qua vedete la navigazione il telefono la radio la climatizzazione tutto regolabile da touchscreen torno sul tasto generale e qui ho le varie funzioni quindi orologi display veicolo un po di impostazione anche dell'auto che posso mettere la macchina dotata di telecamera retromarcia abbinata a sensori parcheggio di cui vedete qua display un po più illuminata comandi vocali tutto il resto ok qua porta lattine si possono regolare in base a cosa dobbiamo mettere bracciolo all'interno del bracciolo abbiamo nelle foto lo vedete meglio presa usb sd card per la navigazione che adesso teniamo disattivata mi faccio vedere dall'altra parte perché è un po buio scusate male di stagione adesso riparcheggio baule immenso questa macchina può anche abbattere i sedili vediamo se riesco a farlo con una mano sola inviate pazienza se rimane un po mossa l'inquadratura ok sostanza questa cosa può essere fatta con tutti i sedili i sedili tramite queste levettine rossi si possono anche sganciare e toglierli completamente in caso di dove serva a portare un qualcosa di molto grosso macchina vi ricordo vettura Tosanone brusadelli sempre chilometraggio certificato e garantito tutte le vetture consegnate col tagliando eseguito 12 mesi di garanzia tutti i dettagli tecnici sotto sono lusadelli.it vi aspettiamo a presto grazie poiché See BC prove e altro